L'acqua, l'oro blu indispensabile per la nostra sopravvivenza. Ma come possiamo rendere l'atto del bere ecosostenibile? Nonostante sia stato già universalmente accorato l'impatto negativo della plastica sull'ambiente, ancora oggi gli distributori automatici sono forniti da migliaia di bottigliette di plastica. Molte plastiche comuni, infatti, contengono e rilasciano sostanze chimiche pericolose per la nostra salute e il pesaggio che ci circonda. Noi ragazzi, come possiamo risolvere questo problema nella nostra quotidianità? Partiamo dalla scuola! Sostituire i distributori automatici con delle fontanelle dell'acqua può sembrare una soluzione banale, ma se esammiamo l'impegno di ognuno, non lo è. Utilizzando una borraccia e riempiendola quotidianamente alla nostra fontanella, l'atto di bere diventa ecosostenibile. Facciamola questa piccola ma grande differenza!